Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Scorci da scoprire nei meravigliosi angoli d'Abruzzo, con 32 aperture in 11 borghi, anche la nostra regione, protagonista delle giornate FAI di primavera, evento dedicato alla conoscenza, alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico. Due le giornate, sabato 25 e domenica 26 marzo. Anche in questa 31esima edizione, la manifestazione di punta del Fondo per l'Ambiente Italiano offrirà l'opportunità di scoprire insieme con i volontari della Fondazione tesori di storia, arte e natura in tutta Italia, con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città. La proposta è molto varia. Si parte dai borghi per arrivare a percorsi naturalistici, percorsi storici, urbani, palazzi privati mai aperti al pubblico. Chiese di diversa natura, monasteri. Sant'Angelo in Ucre, che è una chiesa meravigliosa edificata su una rupe nel 1400. Oppure, che so, percorso naturalistico a Bolognano, cascata e una piscina naturale immersa nel verde. Oppure posso dirvi la passeggiata dalla collina per arrivare al mare sulla costa dei Trabocchi e capire come funzionano i Trabocchi. Salire su un peschereccio per vedere come funziona un peschereccio. Entrare un ex campo di prigionia della Seconda Guerra Mondiale, oggi caserma dei Carabinieri. Insomma, bisogna prendere l'elenco, vedere e visitarli tutti.